A Pordenone, l'ex caserma della Polizia Stradale è stata riconvertita in 35 appartamenti sociali ad affitto calmierato. Le abitazioni sono destinate a famiglie e cittadini che non riescono a sostenere i prezzi del mercato immobiliare, ma allo stesso tempo non hanno i requisiti per accedere alle case popolari. A spiegarlo è l'assessore comunale Cristina Mirante. Era il 2017 quando ci è stato presentato il progetto di trasformazione dell'ex caserma della Polizia Stradale lungo Viale della Libertà e ovviamente ci è subito sembrato un progetto molto interessante anche perché riguarda il social housing, ovvero un'edilizia convenzionata che consente l'inserimento di giovani coppie, persone sole, genitori separati, tutta una serie di categorie sociali che ovviamente non sono per il tipo di reddito all'interno della fascia di cui generalmente si occupa ATER, ma non riescono nemmeno a entrare nel mercato immobiliare acquistando o affittando un alloggio. L'operazione è finanziata da Regione, Fondo Housing Sociale, FWG e Finint. Queste le modalità e i requisiti per accedere agli alloggi. Per accedere agli alloggi è necessario partecipare ad un bando che sarà aperto dal 3 di maggio al 31 di maggio. Sul nostro sito che è www.housingsocialfwg.it ci sarà una pagina dedicata a questo intervento che si chiama Corte di Naon. Sostanzialmente i requisiti sono essere residenti o lavorare su uno dei comuni della Regione, essere cittadini italiani o stranieri in regola con il permesso di soggiorno e avere un valore ISEE inferiore a 40.000 euro e un reddito minimo da dimostrare con buste paga che sia pari ad almeno tre volte il canone annuale. Oltre al vantaggio economico, l'altro pilastro dell'housing sociale è la promozione della buona convivenza tra inquilini. Ed è una parte fondamentale, la parte che a noi sta più a cuore alla fine e quella che seguiamo per tanti anni. Nel senso che già il condominio di Viale Grigoletti, che era il primo intervento in Friuli, ormai sono cinque anni che lo accompagniamo, seguiamo la comunità dei residenti e abbiamo attivato una serie di strumenti per poter fare in modo che effettivamente ci fosse coalizione fra di loro.